Ciao, benvenuto a questo secondo video di oggi. Qui invece ti parlo di come utilizzare in una scala maggiore, per prendere esempio la scala tipica e classica, come invece di usare il classico DO, MAggiore, RE minore, MI minore, FA maggiore, SOL maggiore, LA minore e SI diminuito e SOL, di utilizzare magari accordi differenti. Usa i quattro classici accordi che hai, MAggiore, MAggiore stato di allegria, MINORE stato di tristezza, ACCORDO Aumentato stato di oscurità, di paura e ACCORDO DIMINUITO, Senti, in senso invece di aggressività, principalmente. Questi sono consonanza, sono minore, maggiore, dissonanza, Aumentato e DIMINUITO. Allora, detto questo, invece di suonare la classica scala maggiore, così, poi invece fare per dire una, qui non si parla di scala, qui si parla di emozione, di usare tipo il DO, lo fai così, aumentato, aggressivo, poi il RE lo fai in minore perché è triste, fai in MI, il MI lo fai per dire maggiore, nel senso delle ghiere, poi fai il FA, il FA non puoi fare, DIMINUITO, aggressività, poi puoi fare il SOL maggiore, allegria, puoi fare il LA minore, lo trasformi in DIMINUITO, anche qui aggressività, e il SI che è DIMINUITO invece lo fai in OSCURO, DARK, con l'accordo aumentato e solo con questo accordo, di nuovo il DO maggiore, e in pratica a seconda di emozione che vuoi rappresentare, tieni lo schema della scala ma cambi il tipo di accordi che vuoi utilizzare, uscendo un po' da tutte le regole delle scala. Ciao, passaventi! Ciao! Ciao!